Resta il mistero sul ritrovamento di una rumena in condizioni disperate sul ciglio della provinciale che dalla frazione marina di Casalvelino conduce al capoluogo. La 59enne è stata rinvenuta domenica sera in una cunetta in località Cermoleo con il volto fracassato. Potrebbe essere stata aggredita e abbandonata lungo la strada o investita da un'auto pirata, anche se le ferite riportate non sarebbero del tutto compatibili con quest'ultima ipotesi. Per il momento però i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dalla capitano Alessandro Starace, non escludono alcuna pista e stanno cercando di raccogliere tutti gli elementi possibili per chiarire il giallo. Dalla vittima gli inquirenti non hanno ancora potuto ricevere una testimonianza diretta per via delle sue condizioni. La rumena, che lavora come badante, è ricoverata con un gravissimo trauma facciale al San Luca di Vallo della Lucania. I sanitari tuttavia sono fiduciosi sulla sua ripresa, anche se quasi certamente sarà lenta. Ad allertare domenica sera intorno alle 21 la macchina dei soccorsi è stato un passante che, accortosi della presenza di una donna accasciata al suolo e in evidente difficoltà, ha richiesto prima l'intervento di un'ambulanza e poi delle forze dell'ordine. Dalla caserma di Vallo intanto parte l'appello. Chi ha visto e magari sottovalutato la gravità dei fatti deve aiutare i carabinieri a ricostruire la vicenda. Ogni particolare, anche minimo, potrebbe essere decisivo per le indagini.